Ciao a tutti, io sono Asia e oggi sono qua a fare questo video per raccontarvi un po' di Seba. Ho nella mia mente impresse ancora le immagini vivi di quei momenti che la vita ci ha concesso di trascorrere insieme, come ho in mente la sua ironia e le battute sempre pronte ad ogni occasione. Queste, insieme alla sua bontà, alla sua luce, alla sua forza, sono solamente alcune delle caratteristiche per cui si piace amare da molti, se non da chiunque. Ci conoscemmo circa due anni fa ad una festa, appena conosciuto non mi stava molto simpatico, anzi tutt'altro, ma col passare del tempo cambiai idea. Quando iniziamo le gare ero in un periodo davvero buio dalla mia vita, ma lui mi tese la mano e mi aiutò a superare questo periodo appunto, ma in realtà, a dire la verità, lo superammo insieme. Io lo chiamavo Stella e proprio per questo un giorno mi disse che qualsiasi cosa sarebbe successo, lui sarebbe sempre stato a farmi luce. E mi disse ciò perché le stelle indicano la direzione e lui mi indica la direzione per uscire da quel tornado di negatività. Io e Seba non avevamo un rapporto costruito per lo sport, perché, detto sinceramente, sono l'antisport fatta persona, ma avevamo un rapporto fraterno costruito sui valori e sulle emozioni che solamente Seba riusciva a trasmettermi. Ho solamente 15 anni, è vero, ma in due anni Seba è riuscito a trasmettermi, a farmi provare cose che nessuno era mai riuscito o non riuscirà mai a farmi provare. Io prometto, come ho promesso altre cose, che starò sempre vicino al suo papà, alla sua mamma e alla sua famiglia, perché, come mi disse Seba, i sogni non vanno mai abbandonati, perché chi abbandona i sogni è un debole. E per raggiungere i propri obiettivi bisogna essere sempre forti, bisogna avere molta forza di volontà. Quindi io vi chiedo di aiutarci a realizzare il sogno, il progetto Seba 85, perché sono sicura che ce la faremo. Perché, ragazzi, in una settimana noi, con l'operazione di volantinaggio e la creazione del sito, siamo riusciti a smuovere tutta l'Italia. Quindi noi, con il vostro aiuto, possiamo riuscire ad arrivare in alto, ne sono sicura. Con Seba e per Seba. Grazie.